Ciao, mi chiamo Maria. Oggi voglio raccontarvi cosa faccio quando vado alla posta. Abito in una città italiana, e oggi devo andare a pagare una bolletta. La bolletta è per la luce, e la scadenza è vicina, quindi non posso aspettare troppo. Ho già ricevuto la lettera a casa, quindi oggi vado a pagare prima che sia troppo tardi. Vado alla posta a piedi, perché la posta è vicina a casa mia, a circa dieci minuti a piedi. Il tempo oggi è bello, c'è il sole e fa un po' caldo. Mi piace camminare quando il tempo è così. Quando arrivo, vedo che c'è una fila di persone davanti a me, ma non è molto lunga. La gente sembra tranquilla, e tutti aspettano il loro turno. Entro nel piccolo ufficio postale, che è sempre abbastanza affollato, ma comunque accogliente. Subito prendo un numero dalla macchina che si trova accanto all'ingresso. La macchina mi serve per sapere in quale ordine sarò chiamata. Poi aspetto pazientemente il mio turno. Durante l'attesa, guardo le persone intorno a me. C'è una signora anziana che parla con l'impiegata, e un giovane che vuole spedire un pacco. In Italia, alla posta, molte persone inviano pacchi o lettere, non solo pagano le bollette. Io non capisco tutto quello che dicono, ma mi piace ascoltare. La lingua italiana è molto bella, anche se a volte è un po' difficile. C'è anche un uomo che sembra avere molta fretta, sta chiedendo informazioni per spedire un pacco urgente. Finalmente arriva il mio turno. La signora dietro al banco mi sorride e mi chiede come può aiutarmi. Le dico che voglio pagare una bolletta. Lei mi chiede di darle la bolletta. La tiro fuori dalla borsa e le la do. La signora la guarda attentamente, poi inserisce i dati nel computer. Mi chiede se voglio pagare con i contanti o con la carta. Io decido di pagare con la carta, perché è più comodo e veloce. La signora mi dice che devo inserire il mio PIN, e lo faccio subito. Pago, e la signora mi dà una ricevuta. La signora mi ringrazia e io la saluto. Esco dalla posta contenta perché ho fatto tutto senza problemi. Ora posso tornare a casa tranquilla. Durante il ritorno, mi fermo per comprare del pane al negozio vicino, poi finalmente arrivo a casa. Sono felice di aver completato tutte le faccende della giornata.